Pavia 1 TV, un gruppo sempre più in espansione nel panorama multimediale Lombardo. Selezioniamo collaboratori dinamici e intraprendenti, con qualche ora di tempo libero a disposizione, buone capacità di comunicazione, auto munite, con voglia di fare nel marketing commerciale, nella comunicazione e nello spettacolo, confezionando servizi video e scrivendo articoli per i nostri siti e social. Cerchiamo anche agenti commerciali, garantendo ottime provisioni, oltre a distributori delle nostre riviste in tutti i comuni del territorio. Pavia 1 TV, edita da Agenzia Creativamente, allarga gli orizzonti presto anche sul digitale terrestre. C'è posto anche per voi. Da tutti noi di Pavia 1 TV, itinerari news e Agenzia Creativamente, buone feste! Sabato 12 dicembre, ben ritrovati cari ascoltatori di Pavia 1 TV. Buongiorno alla provincia di Pavia All'Ascolto e tanti auguri di buon compleanno a Gloria Kindamo, che è nostra gravita ospite questa mattina. Ben trovata! Grazie Emanuele, buongiorno a tutti. Allora se... Se il tuo compleanno, diciamo, inizia con me, non può che migliorare la giornata. Comunque grazie, scherzi a parte, di essere con noi a parlarci del segno su delega del sindaco Paolo Agarlaschelli della nuova amministrazione di Voghera, che in poco più di un mese ha posto al centro del dibattito una questione cruciale, ovvero come trasformare la città della casalinga di Voghera in Smart City, digitalizzare la pubblica amministrazione. E hai incaricato te di occuparti, di essere tramite con gli uffici, con la giunta e con i cittadini, per semplificare il dialogo con proprio gli uffici comunali. In un'epoca in cui, da un lato, c'è un ritardo da colmare di quello che non si è fatto negli anni scorsi, dall'altro però c'è anche una necessità, perché usufruire dei servizi informaticamente e digitalmente è anche un po' in questa fase, speriamo, post-pandemia, post-emergenza, da domani si allentano anche un po' le misure su Voghera e sulla Lombardia, però il cittadino ha bisogno di un nuovo dialogo con gli uffici comunali. Da dove sei partita e che situazione anche hai trovato, mi interessa sapere? Allora, diciamo che è un tema abbastanza ostico da affrontare con le pubbliche amministrazioni, perché in questi anni la tecnologia e il tema digitale si è molto sviluppato, noi lo sappiamo perché lo viviamo tutti i giorni con i nostri smartphone e vedendo le aziende che ormai sono per lo più digitali, quindi siamo abituati ad avere un dialogo con le aziende, diciamo, sul territorio digitale, ma quello che invece è stato difficile da approcciare anche a livello del governo, è stato incentivare che la pubblica amministrazione possa diventare uno degli interlocutori attraverso questo tema digitale, insomma, attraverso gli smartphone, attraverso l'app, attraverso internet. Quindi quello che il cittadino medio è abituato comunque a fare attraverso le app, ad avere dei servizi, a riuscire a navigare e relazionarsi con varie realtà, dal punto di vista della pubblica amministrazione c'è carenza e c'è carenza, noi adesso la stiamo affrontando su Voghera, ma chiaramente c'è carenza a livello nazionale, noi non possiamo non vedere Voghera all'interno di un panorama che è più ampio, il fatto che il Ministero per l'Innovazione Tecnologica e anche l'Agid, che è l'agenzia per il digitale, abbiano fatto questi documenti, queste linee guida per, diciamo, indirizzare le pubbliche amministrazioni e incentivarle a trasformarsi, a riuscire a creare un dialogo con il cittadino in modo che, diciamo, alcuni dei servizi che oggi il cittadino va a fare allo sportello possano essere erogati a distanza, che la comunicazione di alcune, diciamo, informazioni da parte degli uffici pubblici che devono essere indirizzate, devono arrivare al cittadino possono arrivare non solo per posto o per vie tradizionali, cartacee, ma possono arrivare anche banalmente attraverso lo smartphone, che quindi è un metodo molto più attuale, se vogliamo, in cui il dialogo può diventare più immediato, si evitano le filali sportelli, insomma, il tema è questo, no? Riuscire a creare un dialogo digitale, veloce, senza dover creare spostamenti da parte delle persone, che ognuno nel posto in cui si trova possa dialogare con la pubblica amministrazione. Pubblica amministrazione non è intesa come il comune, ma pubblica amministrazione è intesa con qualsiasi ufficio pubblico, dall'agenzia delle entrate, all'ACI per pagare il bollo della macchina, quindi sono state, diciamo, individuate delle linee guida, sono stati dati delle scadenze, degli adempimenti, è chiaro che come sempre la pubblica amministrazione quasi mai riesce a stare nei tempi che gli vengono prescritti, in questi anni alcune date sono state prorogate, però diciamo siamo un pochettino a cavallo da quello che è il triennio imposto per la digitalizzazione. Ora, visto che l'amministrazione nuova è entrata proprio in questo mese di ottobre e quindi siamo un pochettino a cavallo del triennio imposto per la digitalizzazione e che adesso ho questo tema in mano, quello che sono andata a fare è stata partire facendo un'analisi di quello che ho trovato negli uffici, farmi un pochettino un'idea, uno storico di quello che c'era, perché come sempre dal dire al fare non è così semplice. Quindi ho fatto un'analisi di quello che va fatto, di quello che ci impone la normativa e non solo, perché secondo me per vedere avanti non serve esclusivamente rispondere alla normativa, perché magari siamo a norma applicando un paio di link qua e là, possiamo dire che a volte basta la pezza giustificativa per risultare a norma. Invece sto cercando di fare un progetto un pochettino ad ampio respiro e un pochettino che guardi in avanti per far sì che possa essere attuale anche tra un po' di anni. Quindi il mio pensiero è un progetto quinquennale, comunque pluriennale, che possa avere, diciamo in questo momento quello che sto studiando sono i budget, quindi lo stato delle cose, capire cosa vorrei attuare in questi cinque anni, capire i budget e fare una suddivisione per anni. Poi è chiaro che quello che servirà sono i fondi, come sempre, alcuni fondi che le amministrazioni non sono abituate a destinare alla parte informatica, perché non c'è proprio la cultura, secondo me, il fatto che l'informatica sia una voce che debba essere messa a bilancio, fissa, perché comunque la strumentazione è invecchia, ci sono alcune voci che vanno assolutamente considerate in maniera diversa, adesso poi magari la raccontiamo meglio, però diciamo che definiti budget, definito un progetto, vorrei insomma dare una pianificazione di questo tipo. Ecco, è molto interessante, poi tra l'altro dico una sfida mica da ridere, perché passiamo voglio dire un po' dall'1.0 al 4.0 di colpo, non si può certo pensare che con la bacchetta magica cambino le cose, ho una curiosità Gloria Kingdom, vorrei sapere, perché ci segnalano ad esempio molti cittadini, molti nostri ascoltatori, che spesso anche il parco hardware nelle pubbliche amministrazioni è un po', cioè c'è da soffiar via la polvere dagli hard disk. Che situazione avete riscontrato a Voghera, cioè gli uffici hanno delle tecnologie, dei software adatti, o c'è da intervenire anche sul comparto proprio dei computer e portare un po' nel terzo millennio Palazzo Gunela? Allora, il discorso è che nel momento in cui andiamo a digitalizzare il comune di Voghera, ma comunque questa credo che sia una situazione abbastanza nella media purtroppo, nelle pubbliche amministrazioni, non possiamo immaginarci di prendere un comune che è assolutamente perfetto ad oggi e portarlo nel futuro, ma dobbiamo pensare che siamo sempre un pochettino indietro con la pubblica amministrazione. Quindi il fatto che io abbia trovato la fibra internet per esempio che va molto lentamente, alcuni programmi che mancano, magari anche programmi fondamentali, computer magari di vecchia generazione, abbastanza vecchia vecchia generazione in alcuni casi, è chiaro che io non posso pretendere di prendere un computer degli anni 90 e portarlo nel 2030. Manca tutto un gap generazionale di tecnologia che deve per forza passare da alcuni fondi e riuscire ad aggiornare almeno l'hardware e i software in modo che gli uffici comunali possano essere aggiornati e possano funzionare per quello che è la tecnologia di oggi, perché come posso io richiedere agli uffici di fare un servizio sull'esterno digitale innovativo quando loro non hanno la base in alcuni casi. Quindi è un pochettino questo il tema. Molto chiaro, io ho anche una domanda che ieri sera un nostro lettore e tra l'altro anche un esponente della vita politica locale faceva, è Marcello Bergonzi Perrone, lui devo dire che già anche nelle settimane scorse quando è partita la missione di Gloria Kindamo, siccome è un convinto assertore della necessità di digitalizzare, diceva sì però si parli di cose concrete e insomma in un mese, diciamo abbiamo anche capito da questa introduzione che a Boghera c'è molto da fare perché molto probabilmente non è stato fatto anni fa, però pone questo interrogativo. Intanto ci spieghi perché ancora oggi non si riesce ad avere un certificato di residenza anche a mezzo semplice email visto che dappertutto senza troppi voli pindarici già sta roba si fa da anni, perché non è ancora stato fatto? Allora in realtà personalmente io anche per lavoro spesso richiedo certificati all'anagrafe eccetera e via mail i documenti arrivano, quindi personalmente non da politica ma da cittadina riscontro che alcuni documenti via email tranquillamente arrivano. Allora è chiaro che stiamo parlando di un sistema digitale vecchio stile, c'è il cittadino che deve prendere il telefono, chiedere il documento, mandare la mail, poi anche i pagamenti non è che sono comodi, magari uno deve pagare 1-2 euro, cioè farli a distanza non è semplice, il discorso del pagamento tramite pago PA, autenticazione speed sarebbe tutto un sistema molto più corretto per affrontare un rapporto a distanza. Poi credo anche un'altra cosa, c'è un gap tecnologico dentro Palazzo Gunela, c'è anche un'abitudine da creare nel cittadino utente, nel senso che è logico che mettere in piedi una macchina di un certo tipo per mille persone che su una popolazione di più di 30 mila ne usufruisce, è logico che magari viene considerato anche un costo non giustificato, ma se si agisce da un lato e dall'altro probabilmente anche i documenti che oggi non c'è consuetudine di far passare sul digitale è logico che è logico aspettarsi insomma che agendo su queste due vie tutto possa cambiare. Però cara Kindamo io voglio spiegare perché spesso noi parliamo di informatizzazione, digitalizzazione, noi siamo anche un po' malati di queste cose, lei ha una grande passione, tu hai una grande passione altrimenti non ti saresti voglio dire cimentata in questa difficile avventura a Voghera, però non tutti sanno che cosa significa digitalizzazione della pubblica amministrazione e allora a questo riguardo io vorrei anche fare un po' di punto della situazione per far capire che i problemi che ci sono a Voghera sono delle questioni cruciali da affrontare anche a livello nazionale. Guardate questo servizio. L'Italia digitale è ormai in moto ma per accelerare questa trasformazione bisogna continuare a ripensare la macchina della pubblica amministrazione sotto diversi aspetti. È necessario usare bene le risorse disponibili, accelerare lo switch off e il ridisegno dei servizi pubblici, sviluppare un sistema di monitoraggio basato su roadmap e dati chiari, sperimentare in modo pragmatico le tecnologie emergenti, collaborare con imprese di ogni dimensione, rivedendo il sistema del procurement pubblico. Ma qual è oggi il livello di attuazione dell'agenda digitale? I digital maturity indexes prodotti dall'osservatorio, distinguendo tra fattori abilitanti e risultati ottenuti, ci permettono di capire come siamo posizionati rispetto agli altri paesi europei. L'Italia è a livello della media europea negli sforzi fatti per rendere più digitali le infrastrutture e la pubblica amministrazione, ma è ancora indietro sulle altre aree e sul piano dei risultati ottenuti. In particolare siamo tra i peggiori per competenze dei cittadini e per uso di internet da parte di cittadini e imprese. Intervenire su questi aspetti è ormai un'urgenza improrogabile. Per farlo l'Europa mette a disposizione dell'Italia circa 1,27 miliardi di euro l'anno nel settennato 2014-2020, di cui 1,1 miliardi di euro a disposizione delle regioni per raggiungere gli obiettivi tematici migliorare l'accesso alle ICT e migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Alla fine del 2018 le regioni italiane avevano vincolato solo il 34% di questi fondi e ne avevano già speso solo il 16%. Le regioni in transizione sono quelle che fanno meglio in proporzione, con la Sardegna che ha già speso ben il 62% delle risorse disponibili. Le altre regioni, che ricevono di gran lunga la maggior parte delle risorse, si attestano nel complesso a quote di spesa molto inferiori, sotto il 15%. Malgrado una spesa ancora bassa, soluzioni d'avanguardia cominciano a farsi strada anche nella pubblica amministrazione. I progetti che fanno uso della tecnologia blockchain sono cresciuti del 300% negli ultimi due anni, dai 28 del 2017 ai 112 del 2019. Tuttavia, a ben guardare, si tratta di poco più che sperimentazioni. Il 69% dei progetti mappati dall'osservatorio è ancora solo un annuncio. Il 26% invece è giunto alla proof of concept, mentre solo il 5% è operativo. Sono solitamente le pubbliche amministrazioni più grandi ad adottare per prime le soluzioni più innovative. Lo stesso discorso vale se guardiamo allo switch off dei servizi pubblici. Analizzando il livello di digitalizzazione dei comuni, infatti, emerge che più di un terzo di questi, generalmente quelli molto piccoli, è ancora ai primi passi. Gli sportelli fisici la fanno da padrone. Poco meno della metà, il 46%, può essere definito invece digital believer. Ha software per il back office non integrati, ma applicativi che digitalizzano buona parte delle procedure di cittadini e imprese. Solo il 18% però rientra tra i digital champions, ovvero quei comuni, tipicamente grandi, in cui sono maggiormente integrati i software per il back office. E la gran parte dei servizi al pubblico non ha più uno sportello fisico. In cima alle priorità per la digitalizzazione del settore pubblico, c'è però il tema del procurement. Mediamente, una gara pubblica in tecnologie digitali è assegnata 144 giorni dopo la scadenza per presentare offerte. Solo il 46% delle gare è assegnata in meno di 100 giorni. E per le gare di oltre un milione di euro, l'attesa sale in media oltre i 190 giorni, ovvero più di 6 mesi. È necessario allora rivedere i processi interni della pubblica amministrazione che gestisce la gara e digitalizzare del tutto l'interazione tra la pubblica amministrazione appaltante e i soggetti esterni. Alla faccia, insomma, di chi chiede il miracolo a Voghera, mi sembra che ci sia un tema che attraversa proprio l'Italia in questo momento, dove avete sentito anche dal servizio, il tema è anche preparare davvero il cittadino e l'imprenditore a questo genere di approccio con la pubblica amministrazione. A questo riguardo, Kindamo, però so che Voghera sta adottando, battendo comuni più grandi, le altre due città più grandi della provincia di Pavia, cioè Pavia e Vigevano, un'applicazione entra in un nuovo ecosistema digitale. Ce ne vuoi parlare? Certo. Ti faccio una premessa a questa cosa, proprio sul tema delle domande, su quello che ci è stato anche chiesto. Le domande che semplificano un pochettino la parte dell'innovazione digitale, cioè perché Voghera non è ancora in grado di fare questo, perché Voghera non è ancora in grado di fare quello. Vorrei solo dire che è un pochettino come chiedere a una persona che non è avvezza alla tecnologia, e ne abbiamo tante magari anche in famiglia, un pochettino a Gè che hanno difficoltà magari a connettersi a internet o utilizzare gli smartphone, eccetera, e dirgli ma è molto semplice fare questa cosa perché non la sai fare. Noi abbiamo questo problema sia dalla parte del cittadino, sia dalla parte della pubblica amministrazione. In questo momento lo Stato ci mette a disposizione questa app che si chiama IO, che creerebbe, creerà il dialogo fra cittadino e pubblica amministrazione, ma non è un'app e basta che può sanare, che può creare la digitalizzazione. La digitalizzazione è un processo che noi stiamo cercando di innescare, tutta questa comunicazione che io sto cercando di fare vuole essere da una parte informativa, chiaramente non pretendo di essere formativa come un corso di formazione, però in pillole sto cercando di divulgare un po' di quella informazione che può servire pezzettino per pezzettino, giorno dopo giorno, a diciamo avvicinare un pochettino, a ridurre quel gap informativo che la gran parte delle persone hanno. È chiaro che se le persone che hanno magari una cultura nella media più elevata, una competenza informatica più elevata, si fanno domande banalizzando la questione, forse non abbiamo capito il problema. Il problema è che la maggior parte dei cittadini ha difficoltà, anche se io gli dessi in mano oggi un'app perfettamente funzionante non riuscirebbe ad utilizzarla e dall'altra parte anche la pubblica amministrazione se avesse un'app con dei programmi perfettamente funzionanti per dialogare col cittadino non riuscirebbero a utilizzarla, questo è il grosso tema della digitalizzazione. Quindi semplificare non ha proprio alcun senso, cioè noi stiamo, la digitalizzazione non è un prodotto che io vado e compro, cioè per quanto io possa avere budget non posso comprarle da domani essere perfettamente digitali. È un processo che stiamo innescando, è un processo che si innesca, un processo che va alimentato sia a livello di risorse, a livello economico per l'acquisto di infrastrutture, a livello formativo, a livello informativo per la cittadinanza, formativo per cittadinanza e pubblica amministrazione, ufficio e tutto quello che comporta. Quindi è un processo che comporta tantissime sfaccettature. Questa app io è sicuramente uno dei punti saldi, uno dei punti della digitalizzazione perché abbiamo anche l'obbligo a livello nazionale di aderire perché sarà l'app attraverso la quale i cittadini potranno dialogare non solo col comune di Boghera ma anche con tutte le pubbliche amministrazioni. L'adesione a questa app viene via via fatta dai comuni, noi abbiamo in questa settimana preparato tutti gli incartamenti, la documentazione, il sindaco ha firmato e ufficialmente vi posso dire che abbiamo inviato tutti i documenti per aderire. Sono andata a vedere sull'app i comuni che hanno già aderito e comunque non sono tantissimi, se andate a vedere sulla ricerca anche a livello nazionale i comuni che sono già partiti con questa adesione sono veramente pochi. Sono andata per curiosità a vedere se il comune di Pavia, il comune di Vigevano, Mortara che sono comunque le altre tre città più grandi della provincia di Pavia e non le ho trovate e quindi ho detto dai in qualcosa magari ci stiamo muovendo. Alla fine troviamo Milano, troviamo Venezia, Torino, le città un pochettino più grandi che hanno anche risorse economiche per avere uffici che si occupano proprio della parte informatica, magari anche all'interno hanno budget da destinare a società informatiche importanti. Noi abbiamo un ufficio informatico che si sta dando da fare, che sta lavorando molto bene, con cui sto collaborando e stiamo pensando come aggiornare tutto il sistema, però ovviamente non siamo Milano, non siamo Roma, non siamo Venezia, quindi i passettini li dobbiamo fare in maniera molto culata uno per volta. E quindi dai, forse adesso in questi giorni noi abbiamo mandato l'adesione, Voghera non c'è ancora, perché ovviamente la domanda è stata fatta in qualche giorno saremo online, anche noi appariremo nell'elenco e basta. Ecco, voglio sapere, perché io sono il casalingo di Voghera, voglio sapere, perché non è che tutti siano digitali e ascoltatori, che cosa si potrà fare con questa applicazione in virtù del trovarci dentro anche il comune di Voghera? Che cosa potrò fare io da cittadino con questa app? Allora, diciamo, questa app di fatto è una scatola abbastanza vuota, diciamo, messa a disposizione dello Stato alle pubbliche amministrazioni per dare dei servizi al cittadino. Come funziona? Ci saranno dei servizi a livello nazionale che troveremo sull'app di cui qualcuno è già attivo, tipo il pagamento del bollo, che a livello di ACCE è già presente, piuttosto che altri servizi di agenzia dell'entrata, qualcosa si trova già direttamente lì che è caricato a livello nazionale. A livello locale noi dovremmo innanzitutto fare un lavoro informatico su tutta la parte del nostro sito internet, sulla parte del back office degli uffici, perché è inutile che io metto il servizio sull'app io quando poi gli uffici non sono pronti, i programmi che usano gli uffici non sono pronti per dialogare con l'app, c'è tutto un gap, un lavoro da fare prima di arrivare a mettere a regime l'app. Però intanto abbiamo aderito e tutti i servizi nazionali, come ad esempio anche il cashback molto criticato in questi giorni, perché anche quello sta andando a regime, quindi voglio dire, se lo Stato con i fondi che ha, con gli investimenti che fa, anche su un discorso come quello del cashback di cui si sta parlando in questi giorni, non riesce immediatamente a mettersi a regime, tanto più noi un attimo siamo entrati da un mesetto, tempo che riusciamo a trasformare i servizi dal sito internet e portarli sul telefono, un attimo di tempo ci vorrà. Però tutti i servizi, l'idea è che i servizi che comportano l'identificazione e il pagamento, magari con la richiesta di certificati, pagamenti delle mense a scuola, pagamenti per i vari tributi, cioè almeno questo tipo di informazioni ci siano e che, anche se non andranno a sostituire le comunicazioni ufficiali, però il promemoria da parte del comune che arriva direttamente alla persona in cui dice ricordati che c'è questa cosa, piuttosto che l'informazione in cui viene detto anche banalmente ci sarà questo evento, ci sarà questa cosa, cioè una comunicazione diretta tra la pubblica amministrazione e il cittadino. È una cosa bellissima quella che state facendo ed è una bellissima mossa dell'amministrazione a guida del sindaco Paola Garlaschelli perché diciamo che rendere più facile la vita al cittadino e sicuramente di questi tempi poi è un grande regalo di Natale, chiamiamolo così, non si poteva far di più in un mese. È logico che adesso ci sarà lo strumento e poi, avendo lo strumento, si migreranno tutta una serie di servizi. Abbiamo sentito parlare anche di una fotografia che tu hai fatto al Parco Tecnologico di Palazzo Gunela da portare nel 2020-2021 in una maniera tale che poi questi strumenti possano tutti quanti essere utilizzati. Però voglio chiederti anche una cosa, non pensi, stavi parlando del cashback che con questa applicazione IO potrà essere anche un'altra leva per il cittadino da utilizzare. Ecco, non pensi che ci sia però davvero anche un tema generazionale dietro a queste rivoluzioni perché io spesso ho l'impressione da osservatore che nelle grandi città metropolitane sia più facile agire perché sia i titolari di esercizi e di attività e di imprese, sia i cittadini sono abituati a vivere e lavorare in una maniera molto più digitale. Qui è anche una questione di preparare magari anche dei tutorial su come utilizzare questi servizi perché al di là di tutto magari qualcuno le risposte non riesce ad ottenerle perché non segue le procedure come dovrebbero essere svolte. E in verità anche il sito del comune di Voghera che so che tu stai attenzionando non è proprio una roba facile andare a trovare lì le informazioni. Lo so bene io che anche da giornalista navigo e i siti meno usabili e meno, come dire, anche graficamente d'impatto che ti aiutano in tre clic ad arrivare alle informazioni sono proprio quelle della pubblica amministrazione. Ecco, ti vorrei chiedere una considerazione su questo sapendo che non è che tu sia mago merlino, ecco, però volevo capire che idea ti sei fatta a riguardo. Ma guarda, in particolare sul sito internet mi sono fatta estrarre tutta la mappa del sito e sto facendo alcune considerazioni con i dirigenti. Sto facendo il giro di tutti i dirigenti perché in questo momento l'organizzazione di ogni singolo ufficio sul sito internet viene un pochettino gestita dai vari uffici, quindi anche il fatto di avere un approccio leggermente diverso perché poi ognuno di noi si può mettere mano alla sua parte, ha magari un punto di vista diverso e poi questa cosa crea nel cittadino che invece è un unico interlocutore ad andare a interrogare il sito a trovarsi a non capire la logica con cui deve cercare all'interno delle pagine le informazioni che gli servono, le informazioni che gli servono. Quindi sicuramente sto lavorando per ottimizzare quelle che sono, quello che potrebbe essere un percorso guidato un pochettino più intuitivo, magari con dei pulsanti più grandi in cui si capisce, in cui vengono create insomma gerarchicamente, no? Dei percorsi più semplici da seguire. È chiaro che questo salto in avanti sulla parte del sito non può non andare in parallelo all'innovazione che va portata anche al sito sulla parte di speed e pago PA. Quindi se da una parte stiamo studiando i percorsi più semplici per condurre l'utente dal sito all'informazione che vuole raggiungere, dall'altra parte devo integrarla con questo nuovo sistema di speed che è l'autenticazione e il pago PA che dovrà essere inserito nei punti giusti. Quindi è un po' un lavoro in parallelo che stiamo facendo, l'autenticazione tramite speed e passaggio a pago PA sarà obbligatoria entro il 28 di febbraio. Siamo sempre nelle pubbliche amministrazioni, quindi dobbiamo sempre tenere conto che a meno che... Abbiamo un problema, non riusciamo più a sentire il tuo audio, forse si sono scaricati gli auricolari Bluetooth. Immagino perché ogni tanto capita anche questo. Comunque è molto interessante questo lavoro che si sta avviando e credo che diventerà... Non sentiamo, non sentiamo, non sentiamo e intanto che ristabiliamo la connessione. Volevo dire questo, è molto interessante che Voghera, una città a cui storicamente si è sempre imputato di essere in ritardo sulla digitalizzazione, da un certo punto di vista diventi un po' il laboratorio per studiare alcuni progetti pilota che acquisiscono anche un significato e un valore a livello provinciale e regionale. È molto importante il lavoro che si sta facendo. Logicamente il tema della corresponsabilità di una digitalizzazione nella comunicazione pubblica amministrazione cittadino è fondamentale e direi che ci sono tante cose che comunque già in così poco tempo si sono fatte. Mi sentite? Benissimo. No, perdono. Dicevamo che quindi nel nuovo sito del Comune di Voghera ci saranno anche i nuovi servizi un po' 4.0 che sono necessari in questo momento. Giusto? Sì, 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 ci stiamo lavorando. Chiaramente sono tantissimi temi, tutti che si interconnessi tra di loro non è che risolvendo il singolo certificato io ho portato la digitalizzazione a Voghera, sto cercando di avere un approccio un pochettino più trasversale. Magari ci sarà, voglio dire, non è mai stato fatto granché fino ad oggi, ho bisogno di qualche mese di tempo, cioè ho bisogno di creare insomma un progetto che abbia un senso, che improvvisando il lancio in avanti della singola azione magari può portare alla felicità di qualcuno, ma porta a poco progresso a livello generale del progetto dell'amministrazione. A me piace sempre essere anche non convenzionale nelle conversazioni, nelle interviste che faccio, voglio chiederti una cosa, questi consiglieri comunali, assessori eccetera, che non sono dei nativi digitali, si stanno appassionando a questo tema, perché io spesso ho questa sensazione logicamente scherzo, ma sottolineo un aspetto, la tua età, la tua generazione è anche un aiuto, una spinta in più, perché certi temi stanno più a cuore a chi con il computer, il tablet, eccetera, abituato a lavorare e da un certo punto di vista ci è nato, ha studiato con il computer e non scrivendo soltanto con carta e penna e così via. Però l'altra questione è che spesso ci si appassiona a una sfida nella misura in cui si comprende il valore di questa sfida, perché dicevo proprio ieri nella mia trasmissione che spesso la pubblica amministrazione fa l'errore di non puntare ad esempio sulla fibra piuttosto che su delle tubature efficienti, dell'acquedotto, perché si diceva che sono cose che non si vedono. Allora, e questa è sempre una questione di consapevolezza, perché ad esempio adesso si parla di smart working, chi lavora in zone ben connesse è avvantaggiato enormemente anche nel cercare lavoro e nel fare riunioni online rispetto a chi ha ancora difficoltà da digital divide, da divario digitale. Ecco, come reagiscono i senior lì a Palazzo Gunela a tutte queste tue iniziative e progetti in cui stai cercando di coinvolgere tutti, tutti, tutti? Ma allora, ripeto, è una bella sfida. È assolutamente uno spaccato di vita di cittadini che è rappresentativo di quello che troviamo all'esterno. Cioè, non è semplice, io lo comprendo perché quando magari fra qualche anno ci saranno altri ragazzi più giovani di me che avranno idee nuove, io sarò in difficoltà. Quindi assolutamente vedo assoluta disponibilità e credo che tutta l'amministrazione abbia compreso l'importanza di questo progetto della parte digitale per Voghera e ognuno con le sue capacità informatiche si sta assolutamente allineando e quindi vabbè, sono tutti bravi. Per il momento non abbiamo problemi, nel senso che magari ci si mette un attimo di più in alcune cose ma tutti molto disponibili e nessuno mi sta ostacolando in questa cosa, anzi, stanno cercando tutti di lavorare insieme, anche in questo momento in cui non ci possiamo fisicamente incontrare per il Covid, tutte le varie riunioni che stiamo facendo con le piattaforme in videoconferenza stanno andando bene, ci stiamo allineando, stiamo riuscendo a lavorare, per cui benvenga il lavoro di squadra. Ci arriviamo a conclusione, voglio chiederti che cosa hai osservato nella tua analisi anche dell'attualità sulla provincia di Pavia rispetto al tema digitalizzazione. In questo momento ci sono esempi virtuosi che arrivano da altri comuni oppure c'è una grande sfida da vincere? Perché voglio capire anche se tutto il resto della provincia di Pavia, visto che noi ci rivolgiamo soprattutto a quella platea, è o no cosciente della sfida del digital, a tuo avviso? Sì, allora, una cosa che io sto facendo è che sto cercando di non essere autoreferenziale, nel senso che mi sto guardando intorno, sto aprendo le relazioni sul territorio perché, come in tutti i settori, il fatto di avere una rete di persone comunque, alla fine, di persone che lavorano nelle amministrazioni, che si trovano nella nostra stessa situazione, sicuramente crea confronto, crea scambio e crea sinergia, che sono poi i temi che ci aiutano a crescere più velocemente, a raggiungere gli obiettivi in maniera più efficace. Quindi sto cercando di partecipare a diversi tavoli di lavoro, avere scambi con le altre amministrazioni, ci sono comuni non solo nella provincia di Pavia, ma anche a livello più ampio, a livello nazionale, magari sempre di dimensioni paragonabili alle nostre, della città di Boghera, ci sono altre realtà che funzionano, che hanno già attivato alcuni servizi, hanno già iniziato magari un pochettino prima di noi e quindi si sono già scontrati con problemi e soluzioni, quindi è sempre bello, è sempre utile guardare e imparare da tutto quello che si può, insomma, prendere spunto. Bene, allora grazie alla digitalizzatrice del Comune di Voghera, Gloria Kindamo, per essere stata con noi la mattina del suo compleanno, di nuovo tanti auguri e di buon compleanno, ma anche perché sappiamo che la sfida da vincere non è facile. Sicuramente, visto che Gloria Kindamo è molto social e ha già cercato molto il confronto con la città, potrebbe essere anche utile interagire con lei attraverso i suoi profili sociali, ma anche andando a scriverle, no, alla sua email, anzi diamola l'email a cui possono scrivere i cittadini per dare suggerimenti rispetto a cose che magari sentono più urgenti, più prioritarie, a che email possono scrivere. Perché infatti volevo ricordare questa email a fine dell'intervento. Allora io ho iniziato proprio, il primo post che io ho fatto è stato di apertura, perché credo che questo tema digitale sia il più trasversale possibile e che non può non trovarci tutti d'accordo sull'innovazione digitale. Quindi avevo indicato la mia email che è g.kindamo.comune.voghera.pv.it, magari poi la mettiamo nel post se hai piacere. Avevo aperto a tutti i cittadini chi ha suggerimenti, ha voglia di contribuire a livello di idee, vuole fare delle richieste, anche chi sta scrivendo post su Facebook può tranquillamente, se ha competenze, se ha conoscenze, vuole essere propositivo, vuole collaborare, può inviare una mail lasciando i propri recapiti, dandomi quello che sono le sue idee e poi quello che già non stiamo attuando, sicuramente se dà delle idee nuove ci vediamo, ci incontriamo. Con tante realtà, devo dire che da quel post ad oggi tante realtà mi hanno contattato, tante persone mi hanno scritto, con tanti ci siamo visti, con chi di persona, chi in videochiamata, chi per telefono, chi ha piacere di contribuire e ha idee, perché no? Io sono molto aperta, non credo che il lavoro migliore sia fatto più umani e più teste, quindi perché no? Il brainstorming serve sempre. Qui sotto sta passando l'email a cui scrivere Gloria Kindamo per aiutarla nella sua missione di digitalizzazione del Comune di Voghera. Intanto i nostri ascoltatori inviano anche degli auguri di buon compleanno, oggi una giornata specialissima e siamo anche contenti di vedere per una volta a Voghera segnare un gol importante con l'ingresso in questa applicazione, in questo ecosistema digitale nazionale IO che vede soltanto grandi comuni in questo momento all'interno. Tutto ciò credo che, fatto in un mese, abbia una rilevanza molto particolare e credo che io penso anche molto che dovremmo tornare a scrivere delle email e un po' meno sui social, perché sui social c'è un clima molto avvelenato, molto incazzato, dove tutto deve sempre avvenire da un secondo con l'altro. Poi si mette insieme qualcosa che è la creazione di un servizio con la politica. Qui io penso che a livello locale, più che di politica, si debba parlare di progetti e di obiettivi da raggiungere. Quindi state calmi che per una volta la priorità del digitale è quella che, fatemi dire, insieme agli interventi sul sociale molto danneggiato dall'effetto pandemia e sulla sicurezza, è stato il terzo pilastro di questo avvio dell'attività amministrativa a Voghera. Quindi di questo credo che tutti dobbiamo essere contenti, specie noi che con le nuove tecnologie trasmettiamo, comunichiamo, informiamo. Quindi complimenti all'Aria Kindamo, complimenti al sindaco Paola Garlaschelli, grazie e a presto. Grazie a te. Ciao. Grazie a te.